Buono formaggino, a San Vittorio ho conosciuto uno, si chiamava Daniel, aveva 50-60 anni, era rumeno, però si faceva chiamare Cicerone, infatti io ci fattivo, lo chiamavo l'antico rumeno. Questo col formaggino si faceva la barba, se non c'era la schiuma da barba, se la metteva in faccia il formaggino si faceva la barbuco formaggino, se non c'era la schiuma da barba funziona. Grazie a tutti.